Un piano per affronteggiare le emergenze derivanti da auto ferme nelle code che potrebbero fermarsi dopo gli incidenti sulle principali arterie stradali della provincia di Arezzo. È il piano operativo messo a punto dal gruppo Maxi Emergenze dell'ASL Toscana Sud-Est, coordinato dal disaster manager Luca Pancioni. Quella di sabato 3 agosto è la prima delle giornate da bollino nero, la seconda sarà sabato 10 agosto. In caso di incidenti il piano prevede di far convergere le ambulanze ai caselli autostradali e alle uscite dei tratti interessati. Sulla 1 nel tratto che va da Incisa a Foiano, sull'E45 nel tratto fra San Giustino Umbro e il Bivio di Canili e sulle uscite della Perugia a Bettolle. Si tratta di una modalità operativa, spiega Pancioni, che prevede l'invio immediato di ambulanze ai caselli autostradali in aggiunta ai mezzi di soccorso inviati direttamente sul luogo dell'incidente. Sono molte le chiamate che arrivano alla centrale operativa del 118 in caso di incidente, soprattutto da parte di persone con problemi di salute, malattie croniche, persone anziane e chi ha a bordo bambini. La sosta prolungata nell'auto ferma sotto il sole può creare problemi a queste persone. Dalla centrale operativa diamo indicazioni per raggiungere, se possibile, la prima uscita e farsi assistere dai mezzi di soccorso. Oppure, se non fosse possibile invertire la marcia, saremo noi stessi a raggiungere queste persone. Il mio consiglio, conclude Pancioni, a chi si mette in viaggio in auto, è quello di portare sempre qualche bottiglia d'acqua in modo da affronteggiare una prima emergenza. Un altro consiglio è quello di fermarsi spesso in aree di sosta e di servizio per riposarsi.